Chi vuoi? L'isola dei famosi, Lioniston Luca e Raffaello pronti per il reality? Vinzuiden Indiscrezioni parlano di un invito per Lioniston a partecipare al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Il prossimo 22 gennaio in diretta tv su Canale 5, andrà in onda l'edizione 2018 del Cancelletto Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che avrà come inviato speciale in Honduras Stefano De Martino, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ed ex marito di Belen Rodriguez, video. Ovviamente, ad esattamente un mese di distanza dalla messa in onda del reality, si susseguono varie voci su chi potrebbero essere i prossimi naufraghi ad andare in Honduras. Nelle ultime ore è uscita un'indiscrezione che vorrebbe i due ex concorrenti del reality show Grande Fratello Vip, Cancelletto Luca Onestini e Cancelletto Raffaello Tonon per tutti Lioniston, come concorrenti del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Lioniston sempre più uniti anche al di fuori della casa più spiata d'Italia. Sicuramente, Luca e Raffaello, video, che rientrano tra i personaggi più amati della seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilari Blasi ed Alfonso Signorini, con la loro forte amicizia sono riusciti ad andare anche oltre la casa più spiata d'Italia. Infatti, i due ragazzi anche al di fuori della casa del GF Vip, sono inseparabili e condividono le varie serate organizzare nelle discoteche e le serate di gala. Inoltre, Lioniston oltre agli eventi ufficiali, trascorrono insieme anche i loro momenti liberi, a certificazione di ciò ci sono le varie Instagram Stories che postano sui loro profili ufficiali. Luca e Raffaello potrebbero partecipare all'Isola dei Famosi? Ovviamente, la cosa non è passata per niente inosservata ai produttori di Mediaset che avrebbero proposto alla coppia di Amici del Momento, di approdare in Honduras alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi, video, i, video. Però, il programma che verrà condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda il 22 gennaio e quindi si collocherebbe a poco più di un mese dalla fine della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Dunque, possiamo ipotizzare che sarebbe troppo presto per i due affrontare una nuova avventura, dopo aver finito da poco quella della casa più spiata d'Italia. Inoltre, sempre secondo indiscrezioni, il più titubante tra i due sarebbe proprio l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini che non ha intenzioni di separarsi dalla sua nuova compagna, la modella cieca Ivana Mrazova, conosciuta proprio all'interno degli studi di Cinecittà. Però del resto i produttori di Mediaset, vorrebbero entrambi in Honduras e non solo Tonon, in quanto la presenza di Luca con Raffaello darebbe un sicuro e ricco contributo al successo dell'edizione 2018 dell'Isola. Grazie a tutti!